Allora, adesso passerei la parola all'architetto Cristina Grancho e vorrei che in particolare ci raccontasse questo suo lavoro per arrivare alla delibera favorevole all'annullamento della dichiarazione di interesse pubblico dell'impianto sportivo. Grazie. Allora, intanto buonasera a tutti, ritrovo molto volentieri il mio Paoletto, il mio assessore perché insomma ci abbiamo provato veramente fino in fondo, devo dire, e ci siamo riusciti. Quindi un pezzettino di merito proprio ce lo prendiamo perché piano piano, diciamo, alla fine quello che è successo è sotto gli occhi di tutti e io credo veramente che si stiano rendendo conto per tanti motivi che Tor di Valle è veramente impraticabile. Poi oggi leggendo questo dossier fatto, devo dire, molto bene, dal quale ho preso anche altri spunti al di là di quello che mi è successo perché l'ho detto, raccontato, poi tanta gente già la vedo quindi tanta gente conosce la storia. Mi domando se andando a fare gli scavi per le rilevazioni geognostiche e geotecniche non si siano resi conto che dovevano fare come le tribune di La Fuente, ho letto che la somma della lunghezza dei pali arriva a 13 chilometri solamente per poter fare le tribune di La Fuente, 13 chilometri di pali. Quindi chissà che piano piano effettivamente la somma di tutte le difficoltà, poi anche dal punto di vista giuridico che ci hanno portato poi anche alla delibera di annullamento, però la somma di tutte le difficoltà alla fine per arrivare a questo stadio, oltre alla questione degli arresti, dei probabili rinviaggiudizi che ci saranno insomma, alla fine ha dato ragione effettivamente a tutto quel lavoro di tutti i comitati che devo dire ultimamente, poveretti, io vedo la nota politica che ne faccio è che faticano anche a manifestarsi perché è talmente estenuante il lavoro di lottare contro un'amministrazione che all'inizio ti aveva fatto vedere la luce che pensavamo tutti che ci avrebbe dato partecipazione, invece alla fine si sono visti bloccati da tutte le parti. Quindi io capisco che effettivamente il lavoro dei comitati in queste condizioni è estenuante e alla fine rimangono in pochi quelli più determinati, quelli forse anche che hanno dentro le competenze più grandi ma che alla fine ce l'hanno fatta. Quindi la nota politica è questa, insomma, che alla fine questa grande battaglia la porteremo a casa però diciamo con delle perdite sul territorio anche in termini veramente di partecipazione di voglia di partecipare perché non se ne può veramente più di parlare di questo stadio. Io vi assicuro anche io personalmente io personalmente, fatico, non ne posso più, vorrei che si cambiasse veramente pagina perché un'amministrazione che è arrivata e non ha fatto altro che parlare di stadio, spendere energie per parlare di stadio, per combattere lo stadio per arrivare a quella, basta non se ne può più. Quando diciamo poi facciamo una considerazione io credo che veramente voler parlare di tor di valle bene comune, beh io credo che se uno si va effettivamente a leggere con una nota politica il piano regolatore generale e diciamo i beni comuni in qualche modo già sono, è come se si individuassero perché nel momento in cui tu mi parli di protezione della rete ecologica, è come se tu avessi individuato l'aspetto di bene comune dentro quell'area privata. Il problema qual è? Il problema è che effettivamente il piano regolatore generale lo fanno così forse per pagare professionisti perché a questo punto, cioè per come in questi ultimi anni si è andati avanti ad espandere la città, quello che mi viene in mente è che l'abbiamo fatto solo perché ce lo dice la legge, ce lo dice la 1150, la legge sull'urbanistica, paghiamo i professionisti, architetti, ingegneri fanno i piani regolatori anche belli, anche diciamo che dentro manifestano un senso di passione per il territorio e di tutela per il territorio però poi sono carta straccia. Qualcuno potrebbe anche definirla in un altro modo molto più pittoresco perché effettivamente nel momento in cui tu un pezzettino dopo l'altro stravolgi il piano regolatore stravolgi il progetto globale, a che c'è a fare quel piano regolatore? Abbiamo pagato inutilmente il progettista che l'ha fatto, chi era Paolo Camposvenuti? Chi è che ha fatto l'ultimo? Ecco, io mi ricordo tra l'altro un suo intervento subito dopo che forse si parlava di centralità, insomma mi ricordo un intervento di fuoco sul fatto che l'amministrazione nemmeno l'aveva fatto, quel piano regolatore già lo voleva stravolgere e lui disse guardate io me lo ricordo perché me lo sono riascoltato svariate volte e disse ma io ma che l'ho fatto a fare se poi voi fate come cavolo vi pare e piace? Cioè è inutile che mi abbiate pagato no, io lo disconosco, cioè da adesso in poi quello che verrà fuori dalla trasformazione di questa città era quasi un'alzata di mano, cioè io l'ho fatto, dopodiché quello che sarà veramente la città non andate a guardare il piano regolatore, andatevi a guardare poi i vari sindaci che si succederanno per capire che cosa sarà, perché ovviamente sono previsioni di piano appunto, questo nome è previsioni di piano e quanto mai azzeccato ci sia. Quindi che cosa, perché sia secondo me, sia io sia Paolo abbiamo dato il nostro consenso a questi malefici 5 stelle che ci hanno abbindolato come due rincoglioniti si può dire Paolo perché addirittura nelle fasi prima di arrivare alla stesura del programma insomma il tavolo di urbanistica che era quello, qui vedo vari esponenti prometteva nel suo programma il rispetto di alcuni vincoli che erano assolutamente fondamentali per poter dare una svolta a questa città e devo dire che il fatto, anche magari detto malamente, della moratoria così generale dell'espansione della città, il blocco, la famosa carta di Firenze c'era scritto stop alle licenze di lizi o qualcosa del genere che ovviamente diciamo, sì ma era detto in un altro modo comunque diciamo che magari andandolo a decifrare dal punto di vista tecnico era quasi improponibile messa così però poi effettivamente quello in cui si doveva trasformare era effettivamente uno stop giudizioso e necessario per lo studio dell'espansione della città per poi ricominciare in un altro modo ma soprattutto la cosa fondamentale era l'inserimento non solo nel programma ma addirittura nel primo DUP che arrivò in aula della non edificabilità quindi delle aree a rischio idrogeologico mi ricordo che questa cosa in estremo riuscimmo Paolo riuscì a farla inserire quindi questo ovviamente era per noi il vessillo migliore per dire che questo stadio a Tordivalle essendo fortemente a rischio idrogeologico perché poi diciamo da quando siamo entrati da quando è stata la prima delibera di Marino a quella poi della Raggi effettivamente l'autorità di Bacino ha decretato proprio giuridicamente l'inserimento di questo rischio grave e serio attraverso il vincolo idrogeologico ecco quindi noi credevamo effettivamente che alcune cose potessero essere potesse diciamo che alcune storie come quella di Tordivalle potessero subire una deviazione tutti coscienti almeno quelli che si occupavano della materia che i poteri superiori erano appunto i poteri finanziari quindi io mi ricordo che ad un certo punto quando ci fu il tentativo estremo e poi Paolo il giorno proprio di San Valentino non me lo dimenticherò mai Paolesto te ne sei andato il giorno di San Valentino ma ti rendi conto? quindi e quindi insomma io ricordo l'ultimo appello che feci nella chat che si chiamava eletti all level eletti romani all level quindi tutti i livelli rappresentanti delle istituzioni a Roma quindi stiamo parlando da Roma Regione e parlamentari in cui io dissi guardate che se vogliamo vincere questa battaglia dovete entrare voi in gioco perché è una questione che riguarda la finanza cioè non è solo una questione urbanistica non ce la facciamo solo con la gamba tesa dell'urbanistica dovete aiutarci dall'alto e infatti vennero il problema è che vennero con tutt'altro intenzioni ci hanno aiutato quindi diciamo che è ovvio che la storia di Tor di Valle è proprio l'emblema è proprio l'emblema di Roma è l'emblema dell'incapacità di questa amministrazione tutta a tutti i livelli perché appunto questo era un episodio che doveva avere il supporto non dei consiglieri romani ma dei consiglieri regionali che tentarono e furono come dire messi a tacere ma soprattutto dei parlamentari che dovevano esporsi e ci dovevano dare una visibilità per dire no a questa speculazione a Tor di Valle che doveva rimbalzare ovunque e invece la storia la conosciamo tutti ed è tutt'altra oltretutto io appunto adesso come dire la questione della delibera di annullamento prima di dire due parole proprio due perché tanto l'abbiamo come dire sviscerata in tutti i modi questa delibera di annullamento io devo dire che addirittura la comunità europea con le sue direttive Habitat aveva tenta di tutelare tutti quei diciamo quei luoghi che sono caratteristici proprio con delle strutture caratteristiche di naturalità che sono una fonte di ricchezza per i territori e per noi ma effettivamente nessuno nessuno ha veramente mai cercato di vedere Tor di Valle in questo modo e nessuna amministrazione ormai appunto abbiamo visto che è partita ben prima di Marino la storia si mette minimamente nell'ottica di salvaguardare di tutelare come anche se è privata quell'area di poterla inserire in dei vincoli che ti dicono quell'area è privata è tua sicuramente ma ci fai ciò che diciamo è bene per la comunità assolutamente assolutamente quindi come dire non è che riusciamo come dire andando avanti in questo modo andremo solo ed esclusivamente a sbattere ora io credo effettivamente che questa amministrazione come diceva Paolo su questa storia abbia anche perso la sua maggioranza insomma io buttando qualche parola qui e lì mi sono fatta l'idea che la raggi la maggioranza per andare invariante a Tordivalle non ce l'ha più e che non sa proprio come uscirne poveretta cioè capito non sa proprio più che cosa fare perché oltretutto se non annulla tutto quello che ha fatto questa cosa comunque rimane pendente rimane pendente e allora come potrebbe andare a finire allora io credo veramente che preso preso atto che le cose non sono riuscite a concretizzarsi nel modo in cui loro speravano che si concretizzasse dopo tutto quello che è successo io penso che veramente l'unica strada percorribile sia quella a ritroso mettendo le mani su tutte quelle illegittimità che sono uscite su tutte quelle contraddizioni in cui insomma di cui si è parlato dal punto di vista anche normativo dove abbiamo il famoso parere dell'avvocatura segretato che partì su impulso dei quesiti che prima di andarsene Paolo mise sul tavolo dell'avvocatura perché insomma lavorammo tutti insieme e poi tra l'altro posso dire una cosa che proprio che chiamarono i tifosi della Roma io me lo ricordo quel giorno ma erano più erano più quelli del tavolo di urbanistica quando sono i rappresentanti dei 5 stelle dissidenti del tavolo di urbanistica quando scenderono scesero sperdonate in piazza io me li ricordo perché c'erano qui ce n'è qualcuno eravamo più noi all'epoca Giuseppe ma eravamo di più loro erano loro erano veramente quattro gatti perché io io li ho visti dall'alto erano veramente quattro gatti noi eravamo quasi un centinaio insomma e qui esatto e poi io me lo ricordo eh vabbè eravamo diciamo il tavolo però era voglio dire era un tavolo tecnico era come dire una sorta di diciamo di simil dipartimento che si occupava di urbanistica quindi non è che facemmo l'appello a tutti gli attivisti facemmo l'appello al tavolo di urbanistica quindi quindi voglio dire comunque si è visto che voglio dire Roma comunque questa cosa sicuramente ormai non la vuole io credo che anche questa amministrazione ormai manco la raggi voglia più cioè questa amministrazione questa città perdonate non vuole più manco questa amministrazione quindi ne ha combinate più di Carlo in Francia quindi effettivamente io mi auguro che per Tordivalle anche nel rispetto magari appunto della proprietà privata che comunque ha tante chance all'interno del piano regolatore perché appunto con un parco tematico può arrivare ad edificare 112 metri quadri di sul cioè ragazzi non è che sono eh 112 io che ho detto 112 scusatemi 112 mi sono persa qualche zero dopo la virgola via 112 mila metri quadri di sul che insomma se è un parco tematico e lo deve essere non è proprio robetta da niente quindi speriamo che appunto il 112 mila metri quadrati e io non mi spince o decidiamo di essere secondo me seri per cui se lì il minimo il 9% non è 112 mila metri quadrati già un parco tematico con 112 metri quadrati è secondo me un'emerita stronzata bisogna essere seri se noi no nel senso che bisogna stare attenti a quello che si dice nel senso no questo lo dice il piano regolatore quindi al di là di questo oltre ma sono d'accordissimo infatti dicevo anche non volendo andare oltre cioè voglio dire anche fermandoci a quello che attualmente dice vabbè io torno indietro lascia stare tutto il resto e mi come dire mi avvalgo solo di quello che c'è adesso anche solo facendo questo noi diciamo avremmo saremmo riusciti ad ottenere qualche cosa ma sarebbe ancora meglio che quell'ansa del Tevere effettivamente fosse trattata in un altro modo come merita di essere trattata quindi benvengano queste queste iniziative quante più se ne trovano sul territorio meglio è prima iniziamo a parlare di altro rispetto a questo stadio della Roma e meglio è perché io non ce la faccio veramente più che